Le firme dell'assessore al commercio Paolo Calculli, delegato alla stipula dal sindaco Alessio Valente e dell'assessore della Regione Puglia allo sviluppo economico Loredana Capone, hanno siglato il protocollo di intesa che porterà alla nascita gravina del distretto urbano del commercio. Il sindaco Valente ha commentato l'intesa dichiarando Un passo necessario e rilevante per la nostra città, che consentirà a gravina di rilanciare e fortificare il proprio tessuto commerciale, secondo un impegno da noi preso sin dal nostro insediamento a Palazzo di Città. I prossimi passaggi saranno la predisposizione di un accordo di distretto, la condivisione di un piano operativo nel confronto anche con le associazioni di categoria, la costituzione dell'organismo autonomo di gestione del distretto. L'assessore Calculli precisa, la Regione cofinanzierà sia la redazione del piano operativo, sia le opere e le iniziative previste dal piano. Dall'altra parte dell'investimento, invece, sarà a carico del Comune, dei commercianti che verranno ad aderire e dalle associazioni che potranno partecipare, anche mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali. Insieme, dunque, a sostegno di un progetti con precise finalità. Aggiunge Calculli, entrando poi nel dettaglio, miglioramento dell'arredo urbano, riqualificazione delle aree mercatali, valorizzazione delle botteghe, dei negozi e dei ristoranti storici, realizzazione di punti informativi sugli esercizi commerciali, pur con riferimento all'accoglienza turistica e azioni di riqualificazione degli addetti. Quel che serve, insomma, per restare al passo coi tempi ed entrare in una nuova fase, lasciandosi alle spalle la crisi anche giuridica ed organizzativa, che ha sin qui imperverato, mettendo in ginocchio il comparto e facendo avvertire i suoi effetti negativi su tutta la comunità.